LP, la famosa cantautrice americana, torna nel mondo della musica in pieno auge con l'album che si intitola Sharkers. Tutto si base in questo album sull'amore, sulle canzoni che si vanno a muovere in una traiettoria, quella proprio del rock, aperto, fatto di graziose movense, di forze, di chiamiamole heroense, di tipo rock and roll, tutto che va a ispirare la famosa cantautrice in questione, che è riuscita a trovare proprio nel mondo della musica il suo più adeguato impiego che esista. La musica portata in livelli autici, azzecati, piacevoli, unici nel suo genere, LP lo sa bene e riesce a entrare dentro grazie a questa sua grande capacità. Una capacità fuori dal comune, a mio avviso, una capacità completa, totale, una bravura veramente degna del nome che porta, LP davvero sa arrivare al cuore della gente, e lo fa con questo album, Sharkers, davvero epico. Hazardo a dire è piacevole, non banale, non scontato. Un album dove il rock and roll, o ma anche il rock pure e semplice, vengono a ribatta, con gaudio e competenza. Complimenti dunque a LP, il video termina qua, iscrivetevi al canale, narratore italiano, commentate, ciao a tutti.